Qualsiasi cosa vi sia accaduta, vi stia accadendo, qualsiasi sia il vostro problema, il vostro stato d'animo, meglio se pesante, paradossalmente, dovete solamente chiudere gli occhi in questo momento e respirando andate a cercare con il respiro il problema. Proiettate il respiro, proiettatelo come se fosse una punta, proiettatelo verso il problema. Ogni volta che ispirate col naso, la sonda si muove verso il problema, con la sua storia, con le sue immagini. Affondate questa sonda nel problema, scoprirete che il respiro con questa sonda non affonda in niente, non c'è un'immagine. Questa è la reale consistenza dei problemi e delle storie.